20 anni fa a Milano dunque l'omicidio di Dax, attivista del centro sociale Orso, ucciso da estremisti di destra. Sabato una manifestazione che fa sapere la prefettura sarà seguita con grande attenzione, oggi telefonata tra il prefetto e il sindaco Sala. Stasera le prime iniziative nel quartiere dove il giovane fu ucciso. Allora andiamo in diretta con Roberta Di Matteo. Siede proprio laggiù in fondo all'angolo tra via Brioschi e via Zamenhof davanti al bar che esattamente 20 anni fa veniva ucciso Davide Cesare. Questa sera la vedete la prima delle manifestazioni organizzate dagli amici e compagni che con Dax frequentavano il centro sociale Orso di via Gola. È lì che si dirigerà il corteo che da qui partirà alle 21.30. In fondo alla via, in fondo a via Brioschi, è già blindato il commissariato di via Tabacchi. È lì che si temono alcuni scontri, come è successo in passato, ma essere sotto osservazione è il grande corteo nazionale antifascista e anticapitalista che è stato convocato per sabato, l'appuntamento alle 14.30 in piazzale Loreto. Ieri il Comitato Ordine e Sicurezza ha parlato proprio di questo e di nuovo oggi c'è stato un punto telefonico tra il Sindaco Sala e il Prefetto. Si tema in particolare una saldatura con le proteste degli anarchici che sono da mesi mobilitati per Alfredo Cospito e contro il carcere duro, contro il 41 bis.